Siamo nel febbraio 2022, eppure il copione è quello di tante guerre che abbiamo già visto. Missili su Kiev, missili su Odessa e sulla linea del Donbass, raid aerei, case sventrate, mezzi blindati per le strade e ovviamente i morti. C'è chi aveva predicato una guerra in Europa, chi ci ha avvisato e chi addirittura ha smentito tutto. Oggi, 24 febbraio 2023, siamo qui con Luba, donna e mamma ucraina, che vive in Italia ma ci racconta la storia dei propri figli, che hanno scelto di rimanere a Kiev. Oggi, a un anno di distanza dell'invasione russa in Ucraina, questa è la storia di chi ha scelto di non abbandonare la propria casa. Buongiorno, raccontaci la tua storia e come mai vivi in Italia. Buongiorno, quando la crisi economica è aggravata in Ucraina nel 2002, io ho perso lavoro e sono costretta a venire in Italia per far guadagnare il necessario per mantenere i miei figli e far studiare loro, che sono rimaste il nonno. A inizio, io ho trovato tante difficoltà in Italia per lingue, per ambientarmi, per lontanarsi da mia famiglia, che mi mancava tanto. Io piangeva e dimagriva, però poi piano piano io sono inserita. Ho lavorato vent'anni, ho aiutato per i miei figli a completare studi e anche a sistemarsi. Per fortuna io ho conosciuto una persona con cui mi sono sposata e viveva serenamente finché non ho iniziato questa maledetta guerra. Puoi raccontarci come mai i tuoi figli sono rimasti a Kiev e non ti hanno raggiunto in Italia dopo lo scoppio della guerra? Come maggior parte della popolazione, loro hanno fatto scelta per rimanere proprio sui paesi, per tanti motivi, per non abbandonare casa, per non perdere il lavoro, per bambini piccoli, mia nora era incinta, per andare all'estero, all'altra nazione, non è facile, senza sapere lingue, senza avere il lavoro, il casa, tanta incertezza, perciò loro preferiscono rimanere proprio sui paesi e affrontare tutto questo insieme con le altre persone, aiutare l'economia come possono. Poi loro amano i suoi paesi, i grandi patrioti, e non vogliono abbandonare i suoi paesi in questa grave situazione. Certo, quando sarà, diciamo così, aggravare la situazione, loro saranno costretti a venire qua da me. A distanza di un anno dall'invasione russa, puoi raccontarci com'è la vita in Ucraina? La vita in Ucraina ogni giorno diventa più difficile, perché intorno c'è distruzione, case rovinate, ospedale, scuole, asili, diciamo così, tutto per avere vita normale, senza acqua, corrente, riscaldamento. Persone vivono in rifugi, bambini vanno nell'asilo a buio e freddo, nelle cantine. Persone cercano di avere vita normale, cercano di lavorare, fanno volontariati. donne, anche anziane donne, sono unite, lavano roba per i nostri militari, fanno calzine a maglia, cucinano, mandano queste affronte per aiutare proprio i nostri militari che fanno sacrificio enorme per la nostra vittoria, per la nostra libertà. Per esempio, mio figlio abita a Kiev, a ventesimo piano, e lui sale e scende a piedi, con bambini piccoli, senza ascensore. Grazie a tutto il mondo, e anche a Italia, che stanno aiutando molto per il nostro paese, e noi siamo molto grati per questo. Da inizio dell'invasione, molta gente è molto spaventata, è stata tanto spaventata, disorientata, è iniziata a scappare all'estero, però adesso, piano piano, loro ritornano a sua patria, a sua terra, e preferiscono affrontare cose insieme qua, perché è sempre terra sua e casa sua, sperando che questo finisci presto. Da mamma, puoi raccontarci come vivi la distanza con i tuoi figli? Comunque ho perso sonno, dormo pochissimo, sempre vicino al cellulare, con ansia e preoccupazione, che qualcosa arriverà brutta notizia. Ogni giorno che passa, ringrazio Dio, ringrazio proprio Dio, che per loro sopravvivenza. Dentro di me io sento tanto vuoto e tanta disperazione. Noi aiutiamo per i nostri figli come possiamo. Per esempio, abbiamo comprato il spedito accumulatore, che fa energia, mandiamo cibo, mandiamo vestiti, così insieme superiamo, affrontiamo questo vita quotidiano all'ora, e in questa maniera ci siamo. Luba, prima ci hai accennato alla rete di aiuti umanitari e militari che sono iniziati nel momento in cui Putin ha deciso di invadere l'Ucraina. A questo proposito volevo chiederti, ma Zelensky è un uomo di spettacolo oppure un uomo del popolo? Per me il nostro presidente è un uomo che ha scelto proprio con sua famiglia rimanere vicino al popolo. è un uomo giovane, forte, molto coraggioso, che proprio ha scelto condividere con il suo popolo e superare tutta questa tragedia. E lui è anche molto umano, lui percepisce che vuole il popolo, lui è la voce del nostro popolo, lui capisce che il popolo non vuole stare sotto assedio, stare come serve, distrutti. perciò noi appoggiamo fortemente il nostro presidente e siamo insieme come una famiglia per andare e vincere e avere la nostra vittoria della pace per finire tutta questa tragedia che le persone sono stanchi. Presidente ogni giorno fa collegamento con la sua gente, spiega la situazione, dà coraggio, visita i nostri militari a fronte che aiuta tanto anche per tirare morale il suo popolo. Noi apprezziamo e ancora molto lui. Insieme crediamo fortemente per la nostra vittoria. Quando sarà il primo giorno di vittoria noi piangeremo tutti quanti tanto e tanto perché abbiamo pagato e stiamo pagando carissimo prezzo. Luba, a questo proposito posso chiederti cosa hai da dire a tutte quelle persone che criticano la presenza di Zelensky all'interno magari di programmi televisivi o grandi festival come quello del cinema o come quello di Sanremo o agli Oscar? Per criticare come comporta la persona come dici come muovi bisogna sapere proprio vera situazione come stanno cose nel nostro paese. Io invito chi ha dubbio andare al nostro paese e vedere con i suoi occhi e poi capirà tutta questa situazione come stanno cose veramente come soffrono bambini donne vecchie tanti senza gambe senza mani comunque eppure noi cerchiamo di sopravvivere perciò io ripeto per giustificare e criticare tutto questo bisogna sapere e essere consapevoli veramente come stanno situazioni davvero. Prima di salutarci Luba volevo chiederti come descriveresti quest'anno con una parola io voglio rispondere due parole sofferenza e speranza di sopravvivere di sopravvivere